Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial, io sono Altair e oggi vi sto portando il tutorial su come costruire la Wunder Weapon nonché la RIP onda d'urto e i suoi due vari potenziamenti principali che sono il liquido rifrigerante e il Nova 5 questi due potenziamenti sono ottenibili facilmente, non dovete fare tante cose ma sono anzi le prime che dovete fare per poi continuare con i vari processi per gli easter egg e tutto quanto, comunque per ottenere la Wunder Weapon e riuscirla a costruire dovete attivare la corrente, ovviamente oltre a costruirla la potete avere in altri due modi, questi due modi sono uno nella cassa e uno facendo le varie sfide che ci stanno a fare attivando con dei vari costi, ovviamente dovete raggiungere Epico Leggendario ma non è detto che vi spawni dato che hai fortuna un'altra cosa è che se vi spawna il mini boss fateli colpire questo albero ovviamente cercate di farlo centrare il più possibile perché vi servirà per il prossimo passaggio dopodiché lo sdoppiate, fate molta attenzione poi all'ultimo che rimane perché lascerà poi per terra una tessera che è questa la raccogliete e vi farà poi vedere sopra un'icona che vorrà dire che ce l'avete ovviamente poi vi dirigete verso questa zona andando dal Daikiri sopra e oltrepassate la bomba che c'è qui e vi dirigete verso questo muro ovviamente dirigendovi verso questo muro lui vi rilascerà un telecomando che questo è il telecomando RIP che serve per la RIP onda d'urto e ovviamente poi vi dirigete verso la fest room andate verso questa porta qua e per comodità meglio se l'aprite vi dirigete verso questa fessura e interagite lui poi inizierà a risucchiare anime di zombie ovviamente ne ha bisogno più o meno di una ventina io non sono stato a contarle precisamente però penso che siano una ventina quindi ovviamente fate un altro round se non ne avevate tanti e li portate qua occhio soltanto che magari rischiate anche che vi facciano la mucchiata e magari vi blocchino quindi cercate di andarvene via come io ho fatto onde evitare che magari siete nel passaggio lì e vi blocchino zombie e qualsiasi cosa una volta che ha fatto e vi dirigete qua verso quella fessura lei sparerà un colpo aprendo la porta davanti a sé e vi rilascerà lì bella davanti la wonder weapon dopodiché vi dirigete sopra andate verso questa zona qui e sparate un colpo a questa scatola con la wonder weapon normale perché altrimenti non funzionerà se è modificata poi vi dirigete verso questa zona qua recuperate quella bombola là dietro che risucchiandola vi verrà verso di voi ovviamente questa bombola servirà per un potenziamento che è il nova 5 di mentre poi andate a recuperare la fialetta ovviamente che si troverà qua dato che avete colpito la cassa vi ricordate quando vi ho detto fate colpire l'albero ecco lui farà un fungo voi mettete qua sotto la fialetta aspettate più o meno un minuto quindi fate un po' di zombie girate un po' e dopo un minuto dovete recarvi vicino a quell'albero in poche parole cosa è successo? è successo che la fialetta ha raccolto tutto il liquido che aveva quel fungo quindi tutto il liquido radioattivo poi già che siete qui che state andando verso questa zona vi dirigete un attimo alla zona dei daikiri sotto e collocate la bombola che avete recuperato e la mettete in questo posto perché servirà più avanti attualmente vi dirigete poi sull'altra zona che è questa e rilascerete poi quella provetta qui in questa scatola e il primo potenziamento è stato fatto io poi nel mio caso ho approfittato di una delle cose che è più facile da fare ovviamente il telescopio e dato che ero nel round giusto e avevo fatto già le varie cose mi sono messo a cercare i vari pezzi perché? perché trovando i vari pezzi dell'etereoscopio come tutti sappiamo fa droppare tanti cani e la bombola ha bisogno di quel gas dei cani quindi ho recuperato i vari pezzi dell'etereoscopio poi vi farò anche un video tutorial sull'etereoscopio e poi mi sono diretto verso la zona del daikiri dove c'era la bombola e ho fatto l'anello di fuoco livello 3 mi sono messo nell'angolo ho iniziato a sparare tutti i vari cani che arrivavano così da poter alimentare la bombola una volta che poi è alimentata lei diventa di un colore giallo quindi saprete che è già alimentata la prendete la portate su verso questa zona la posizionate lì e li sparate e il secondo potenziamento è stato fatto ovviamente vi chiedo scusa se non ho fatto vedere i vari potenziamenti come sono fatti ma dato che sono dei pezzi estratti dalla streaming in cui ho fatto l'easter egg tutto filato ovviamente questi sono i pezzi più facili da farvi vedere e un'altra cosa vi invito casomai se volete vedere come è andato tutto quanto potete andarvi a recuperare sul mio canale il video di come ho fatto l'easter egg e tutto quanto tanto c'è lì e niente ragazzi grazie mille per aver visto questo video e se vi è piaciuto questo video lasciate un po di cielo in su iscrivetevi al mio canale e seguitemi sui vari social su twitch e niente ragazzi ci vediamo con un prossimo video e bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti